Tu appartieni a Dio. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi e leggiamo Marco 12, 13, 17. In quel tempo mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglialo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero, Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro, Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro, Questa immagine e l'iscrizione, di chi sono? Gli risposero, Di Cesare. Gesù disse loro, Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio. E rimasero ammirati di Lui. Amen. Carissimi, oggi, in questo capitolo dodicesimo del Vangelo secondo Marco, troviamo un episodio in cui farisei ed erodiani vogliono cogliere in fallo Gesù nel suo discorso, nel suo modo di parlare e nel contenuto della sua dottrina. Cercano quindi di aggrapparsi ad un fatto storico che era sconveniente per gli ebrei, cioè pagare il tributo a Cesare. Ma al tempo stesso, se Gesù avesse negato questo obbligo nel pagare a Cesare, quindi all'impero romano, questi tributi si sarebbe messo contro Cesare. Quindi era, noi la chiameremo, una domanda trabucchetto, dove Gesù in realtà risponde in un modo molto saggio. Guardate l'iscrizione, cosa vedete? Qual è l'immagine su queste monete di Cesare? Quindi vuol dire che gli appartiene questa moneta, datela a Lui. Questo è un modo molto bello, molto sincero, oggettivo da parte di Gesù nel aiutarci ad avere una vita disciplinata, perché molto spesso noi, in molte cose, in molte situazioni, nella vita sociale e anche politica, vorremmo fuggire e vorremmo fare sempre i nostri interessi. Non vorremmo fare gli interessi degli altri, però io oggi non voglio parlare di questa questione, anche se è molto concreta per noi, ma di qualcos'altro più spirituale, perché questi commenti al Vangelo devono attirarci a Dio e non metterci contro gli uomini, altrimenti faremo delle dispute sociali e politiche, cosa che nemmeno Gesù ha fatto. Qui dice, guardate la moneta, qual è l'immagine, ma pensate che San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, parlando a questa bellissima comunità che vive a Corinto, dice, voi non sapete che non appartenete più a voi stessi, ma appartenete a Dio, perché siete stati conquistati da Lui, conquistati dal suo figlio Gesù. E molto spesso ci dimentichiamo ciò che è scritto nel libro della Genesi, che Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza. Quindi quando noi ci guardiamo allo specchio, non vediamo solo il nostro volto, ma in realtà vediamo l'immagine di Dio. Certo, uno dice, se Dio è, magari ho dei difetti, o non mi piaccio, quindi io potrei anche provare disgusto per Dio, oppure troppi apprezzamenti, ma ciò che la parola di Dio ci vuole dire è che in te c'è Dio, tu sei bello per Lui, tu sei speciale per Dio, molto di più tu appartieni a Lui. Quanto è importante riscoprire che la nostra vita agli occhi di Dio è preziosa, la tua vita agli occhi di Dio è speciale, Lui ti vuole alla perfezione, Lui ti vuole in una qualità straordinaria perché sei Suo, perché sulla croce ha pagato la tua condanna, la mia condanna, perché ogni giorno commeto tanti errori, tanti sbagli, Lui sulla croce dice la parola siamo stati acquistati a caro prezzo, la condanna è già stata pagata. Ecco perché il nostro stile di vita deve essere come figli di Dio che apparteniamo a Lui, un Padre buono che ci dona quanto noi abbiamo bisogno. Allora io ho capovolto, lo so, ho piena coscienza, l'episodio di oggi, ma perché ciò che conta è che noi non solo nelle monete diamo a Cesare ciò che è di Cesare, ma nella nostra vita questa è la cosa più importante. La moneta è qualcosa fuori di noi. Il tuo cuore, se appartiene a Dio, è nelle mani sicure. Se appartiene a un'altra persona o al mondo, non sai come va a finire. Ecco perché Paolo dice voi siete nel mondo, ma non appartenete al mondo. tu appartieni a Dio e la tua vita è preziosa ai Suoi occhi. Quindi benediciamo il Signore per il Vangelo di oggi e per questo dono prezioso di appartenere a Lui. Signore grazie, grazie perché la mia vita è davvero preziosa ai Tuoi occhi. Grazie oh Gesù perché mi chiami a seguirti anche oggi, perché mi chiami ad essere immagine Tua. Concedimi oggi di parlare, di agire, di lavorare come Tu faresti, di essere un testimone gioioso della Tua presenza nella mia vita. Concedimi davvero Gesù di mostrare agli altri che la mia vita è preziosa ai Tuoi occhi e di testimoniarla con grande gioia. A Te l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Ame. Lo slogan di oggi è molto chiaro. Tu appartieni a Dio. Questa sera inizia il seminario sui quattro Vangeli. Seminario online qui su YouTube che dopo l'iscrizione sul nostro sito web riceverete il link. Quanto è importante quindi oggi conoscere Gesù attraverso, noi diremo gli occhiali dell'Evangelista Marco. Marco ci presenta un Gesù straordinario, sempre all'azione, vivo, presente e molto umano che si è preso cura di tutte quelle persone che sono andate vicino a lui. Lo scopriremo questa sera. Incontreremo un Gesù speciale che può cambiare anche le nostre vite oggi. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo questa sera. Ciao. Ciao. Ciao.